Grisignano di Zocco. È stato necessario un delicato intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo di un'auto un uomo di 34 anni bloccato al posto di guida. È accaduto le 19 di ieri nella frazione di Poiana di Granfion lungo via Ceresone. Una Citroen C3 per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada finendo dritta contro un platano. Sarebbe finita nel sottostante torrente Ceresone se l'albero non avesse bloccato la folle corsa della Citroen. L'urto però è stato particolarmente violento. L'uomo quindi è stato stabilizzato dal personale del SUEM e trasportato in codice rosso all'ospedale con l'eliambulanza fatta intervenire d'urgenza. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.